la legge non ha vittima no, è vero però la legge non ha vittima la legge l'integrazione delle fattispecie di cui al 624, 625 e 110 codice penale e alla luce anche della condizione della recidiva la pubblica accusa chiede la condanna a tre anni di reclusione in leo del luce Grazie.